Bella ragazzi, sono BenWolfers e siamo tornati su Clash Royale. Abbiamo i soliti bauli da aprire, quindi andiamo a farlo subito. 68 di oro, un paio di gemme, torre bombardiera e orda di sgherri. No grazie. Facciamo un'inversione, andiamo su bauli d'argento. 69 di oro, mini pecca, not bad e dei lanceri. Va bene, torniamo su bauli omaggio e vediamo un po'. 63 di oro, gigante, ci piace, barba di scelti, ci piace molto. Un po' di fortuna, proprio un minimo, l'abbiamo avuta. Il mazzo, ragazzi, è sempre lo stesso e andiamo allegramente a prendere schiaffi. Nel video precedente siamo scesi dall'arena 8 all'arena 7, ed è giusto così perché abbiamo carte bassine. Siamo contro Christopher, che mamma mia che cosa ci sta attirando. È un'impressione mia, e non lo è. Buttiamo orda di scheletri, va. Oppure sono stato un pochino lento con quella zap? Secondo me non è un'impressione mia. Ma proprio per niente. Sono stato lentissimo e basta. Se hittate poco poco quella valchiria, grazie, grazie, apprezzo moltissimo. Gli ho gettato una tronco strana, ma veramente strana. Non so perché l'ha gettato. Io mando un gigante royal perché voglio difendermi da quella valchiria. E fargli anche un po' di danno sulla torre. Ci piace così. Ma andiamo anche un barile goblin. Mamma mia della cattiveria che ci sta piovendo addosso adesso, ragazzi. La tronco però l'hai già usata. Quindi non capisco sinceramente questa tua giocata. Mi serve? Non mi serve? Mamma mia quell'ultima freccia. Direi appunto che non mi serve la... Mi serve adesso. L'unico problema è che non so se c'hai già la valchiria pronta. Hai una palla di fuoco cattivissima. Per fortuna sono rimasti vivi un paio di schetti che ti stanno menando tantissimo. Ma quel gigante a livello 6, prima lo eliminiamo e meglio è, ragazzi. Non ci servivano truppe su questa lane, ma è stato bravo lui a costringerci, diciamo, a fare la giocata. Lì lo avete un attimino menato e mi fa piacere. Mettiamo un gigante qua. E questo è malissimo, ragazzi. Qui ci stanno arrivando degli schiaffi incredibili. Scarica subito, perché quello va un attimino fermato. Ma la torre, secondo me, ci fa ciao ciao, allegramente. E è stato bravo. Inutile negarlo. Qui, piuttosto, siamo in una situazione veramente pessima, ragazzi. Perché qui ci stanno piovendo degli attacchi pazzeschi adesso, eh. Lì ci farà un po' male. Ma andiamo un attacco un po' simpatico. Qui è stato bravo lui ad andare in vantaggio. Si è conservato la tronco? No, non te la sei più conservata. Visto che ti comporti in questo modo, io direi di fare di questo, poi di questo. Facciamo anche di quest'altro. Direi che ci stiamo difendendo abbastanza bene. Sì, lui ci fa un bel po' di danno, ma pazienza, ragazzi. Non possiamo fare diversamente. Mandiamo un badire goblin. Va bene così. Nel frattempo quel drago sta prendendo hit importantissimo. Usiamo una scarica adesso, perché tanto quello lì è mezzo morto. Lapide. Grazie. Tronco preventiva. Bella, per carità. Bella. Ma sei stato un po' troppo, troppo, troppo preventivo, eh, ragazzo. Allora, qui purtroppo prendiamo degli schiaffi pazzeschi. Incredibile, ragazzi. Guardate gli schiaffi che stiamo prendendo. Qui andiamo a perdere una partita allegramente, perché non è morto un barbaro scelto. Che io non ho visto, tra l'altro, sopravvivere. Come ha fatto a sopravvivere quel barbaro scelto? Ragazzi, sapete che ci sono rimasto abbastanza male? Sinceramente non ho capito perché è sopravvissuto. Dopo devo andare a vedermi il replay, perché tra Lapide, Horda e il tronco che aveva sprecato non doveva avere modo di sopravvivere. Comunque, pazienza, ragazzi. Abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione che i barbari scelti, nonostante il nerf, sono una carta sbagliata. Mettiamo una Lapide. Subito una scossa che ho lanciato male, ragazzi. Veramente male. Ho perso un sacco di tempo. Qui sono costretto a far avanzare quel moschettiere. Tantissimo. Mettiamo gli arcieri qua. Moschettiere lo facciamo avanzare. Gli arcieri ho messo un po' troppo tardi, secondo me. Eh, ma... Ah, è di livello 8! Pure io che ci provo. Questo qua, sto Lame Nace di livello 9, appunto, ha le carte un attimino altine, ragazzi. Non mi difendo quella torre perché è inutile difenderla. Mando piuttosto un barbile goblin. Male, perché gli ha mandato quei barbari che tra l'altro non aveva senso, ma mai nella vita, di mandare lì. Perché mandare quei barbari? Davvero. Il minatore era mezzo morto. Non aveva senso mandarli. Vediamo se lo costringiamo a usare le frecce. Oppure no. Mi sa di no. A noi va bene comunque così per adesso. Pronti con la scossa. Perfetto. Questa volta la scossa è stata buona. Una buona zap. Li danneggiamo un pochino il moschettiere. Purtroppo lì ci ha sempre fatto quell'attacco ottimo. E qua è stato bravo perché è riuscito ad andare sopra di Elisir e ci ha mandato contro quei barbari lì che vi lascio immaginare il danno che ci hanno fatto. Per fortuna il drago sta andando sull'altra lane. Ma ripeto ragazzi, questo qui ha delle carte altissime. Ma altissime davvero eh. Guardate quel drago quanto è cattivo. Punta direttamente alla nostra torre. Se ne frega di tutto e di tutti direttamente. Via. Io odio la tua torre. Allora, qui abbiamo una situazione abbastanza pessima. Lui ha giocato adesso... Sapete che non mi difendo ora? Non mi difendo ora per niente. Metto una lapide qua. Metto questo qua. Ok, va bene così. Adesso manderei questi scheletri qua. Tanto lui comunque sappiamo bene che ha tutte le carte che vuole per darci fastidio. E lo fa, però l'ha fatto un pochino lento. Secondo me. Va bene. Mettiamo adesso gli scheletri qui perché lui le frecce le ha usate. Quindi in teoria non potrebbe fermarmi. Rimetto un minatore tattico perché ho bisogno di prendere tempo su quella torre. Noi comunque, per non sapere, ne legge e ne scrive un minimo di fastidio. Glielo stiamo dando. Nonostante, ripeto, l'enorme differenza di livello che il ragazzotto qui ha nei nostri confronti. L'inutile dirvi che ci sta arrivando uno schiaffo immenso. E va bene così, ragazzo. Va bene così. Purtroppo quella è di livello 8, quindi vi lascio immaginare per quanto non l'ho zapato, ma giusto per il gusto di farlo. Ma grazie di che? Grazie di cosa? Se hai le carte altissime, andiamo a vedere le tue carte. Avevi di livello 7 e 8 le rare, perché l'ariete è appena uscita e ce l'hai già al 5. L'epica al 4, al 10 le normali, piuttosto che ci facevi così in basso te. Ma scherziamo? Prossima partita, ragazzi, siamo contro Clement. Questo forse abbiamo già affrontato? Non ricordo, di livello 8. Io voglio fare un attacco un po' così. Mando gli arcieri qui dietro, mandi il gigante royal e dovrei accumulare abbastanza di sir per una scossa o per, eccoli lì, e per i nostri amici scheretri. Lì lui deve difendersi assolutamente a destra, perché gli arcieri, lasciati liberi, fa quello che vogliono, fanno un male, ragazzi, pazzesco. E infatti si è dovuto difendere, ha lanciato una buona tronco, era fortunato che aveva la tronco a disposizione, quella è un'ottima carta. Qui, ragazzi, abbiamo fatto la stessa giocata, quasi, perché io ero già pronto a mandare il mio barile e ovviamente non l'ho potuto fare per cercare di difendermi qui sulla sinistra. Va bene così, ragazzi. E a questo punto mando il barile perché lui sicuramente andrà a riproporre un ciclo simile. Ovviamente ho detto che andrà a riproporre un ciclo simile e ha lanciato una strega, giusto per il gusto di smentire. Allora, ragazzi, qui non faccio in tempo usare la solita tattica, mandiamo degli sgherri cattivissimi. Va bene così. Le frecce le hai già usate e mandi un moschettiere, che ci dà un po' di fastidio, inutile negarlo. Dobbiamo far avanzare il moschettiere. Ha sempre il gigante royal, ricordiamolo. Mandiamo il nostro gigante. Non l'abbiamo mandato in tempo, è questa, ragazzi. Inutile dirvi che è sfiga, perché è sfiga. Nella vita mai sarebbe dovuto accadere una cosa del genere. Ma va bene in questo modo. Mandiamo il nostro minatore qui sulla destra. Purtroppo abbiamo le azioni quasi in contemporanea. Lui, inutile dirvi il male che mi fa qui sulla sinistra. L'ha mandato con le frecce un po' a disperazione. Io non voglio mandargli assolutamente il mio barile ora, perché in questo momento preferisco giocare diversamente. Carichiamoci un po' di elisir. Visto che lui ne ha sempre tantissimo. E adesso gli mando il mio barile. Ok, sta arrivando una lapide, cattivissima. Mettiamo gli aceri, mettiamo gli sgherri, mettiamo gli scheletrini. Lui ha messo il tronco di lato e ci va di lusso, ragazzi. Zap subito qui sopra. Grazie, gentilissimo. E a questo punto io manderei non tu, ma tu. Grazie. Beh, lo ha ignorato completamente. Ma davvero? Questa non l'ho ben capita, ragazzi. A me sembra di averlo messo con un tempismo giusto, ma assolutamente giusto. Quindi non vedo per quale motivo doveva ignorarlo. Pazienza. Scarica subito, ma purtroppo uno schetro ci danneggerà sicuramente. Barile Goblin istantaneo. Lapide, ma tanto lì lui c'ha quella carta che ci devasterà l'impossibile. Purtroppo la partita se la porta a casa sicuramente lui. Noi ci siamo portati a casa soltanto una torre. Ragazzi, che schiaffoni. Veramente che schiaffoni. E non ho capito, se abbiamo beccato gente che è scesa apposta per poi fare domani il baule della corona e il baule del clan, perché se andiamo ad analizzare questa sconfitta abbiamo di nuovo le epiche a 4 tranne il barile, a livello 8 le normali e a livello 6 le rare. E' tanta roba per questi livelli. Va bene ragazzi, pazienza. Doniamo il nostro unico ariete e anche gli arcieri a entropia. Apriamo il cibolo della corona l'unica gioia di oggi. 448 di oro, 4 gemme, stregone, no grazie, un po' di barbari scelti vanno bene, sempre sta capanna dei barbari e ancora mortaio. Ragazzi, la fortuna non sappiamo davvero dove sia di casa. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete ed iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!